Sto registrando tanto questo video andrà caricato conoscerò a lisbona quindi benvenuti farà cagare sta zizzo che puzzi benvenuti al canale di lion ragazzi vi presentiamo il carro di mortal ragazzi fate schifo noi facciamo gli spiriti siamo con l'ordomo beccare il poliziotto con la struttura rosso devi scappare praticamente ai lord come come che sono chiamato di solito dillo culo d'acciaio bravissimo ma anche quello di bronzo non mi dispiace sì ma fatto sta che quello d'acciaio invece migliore bronze più malleabile l'acciaio manco col cric lo apri acciaio acciaio bronzo ok ragazzi io odio le auto della polizia era mal fuggitivo a devo fermare a roma mi dovete toccare vieni qua mister bin si parola del lion che vuoi il culo non devi usarlo contro di me ma è fatta di carta si è trasformato in un triangolo sta macchina è fatta di carta peste forza 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 ma va a famaglio ma ecco perché lo consente tutti addosso tutti addosso auto scontro vai vai bloccalo bloccalo ma dai 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 guardalo se ci ha bottato da solo con la portiera aperta dobbiamo bloccarlo proprio la sin mental su quattro ruote dove va e se fossimo nella realtà quello che sarebbe manco più una macchina di sicuro oi guarda ciao ma lion era lì bloccato e volevo dare il mio contributo ho capito la io nello spiro corrotto abbiamo capito vabbè un muretto c'era ma che colleghi colleghi con con una sola l a lion ha preso la palma ma guardano di sotto il cartello la busta questo l'altro cartello mi sembra di essere sta schiaccio solo che non abbiamo la zebra 3 ma sarebbe fighissimo a questo sì ecco te pareva sei prendo ti prendo ti prendo i cassoletti dalla monnezza che vanno per strada dai si è trasformato in un tramezzino è un sandalo questa macchina l'abbiamo seguito tutti adesso l'unico pierla che si è fermato l'unico furbo avevo voglio di rifrescarmi lei mi sono tuffato no devo registrare pure io dal mio visuale si ma non ho capito dove stiamo andando dove ci porti nelle favera ehi siamo in brasil e va bene ma che volo che volo vieni qua simmental è il mental no simmental circoncidiamolo dai che qua dai che qua circoncidiamolo dai che secondo me sia pedale sta macchina va più veloce dai che sei un flinston e va beh vai fermo qua e fermo qua e fermo qua intanto gli ho sgarruppato una portiera no 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 io in mezzo non ci ripasso più ma non ci posso dire vai che abbiamo fermato eh ma adesso ma adesso piano ok adesso respawna no eh vediamo cosa si fa respawna intanto gli facciamo perdere tempo anzi mancano 20 secondi non può più respawnare ma tu l'hai già fatta? si va bene uh gli ha preso a fuoco la macchina no ha respawnato no 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 solo lei sta affondendo la macchina credo vabbè tanto ha finito vabbè ma dov'è finito ah ok boh che figa sta modalità ma due round quindi adesso c'è di nuovo rocky che lo fa no 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 solo io lo farei eh infatti non ho capito è a turni ah eh qui adesso chi è che fa la baldracca che poi gli piglia le botte sta zitto va che se adesso lo fai tu il lato ti riempio di legnate mi arrivi in body slam col culo d'acciaio esatto e ti scorreggio in faccia ma vaffa al culo ma me l'hai girata che è il fuggitivo però io ho il collettore che esce dal copolo lo so più figo ah sei tu il fuggitivo allora avevo ragione vieni vieni qua ragazzi saccagnatelo senza pietà me sto cagando sotto vuoi fare il latino ma tu perché la macchina subito ma che oh ma che vai in monaco ciao eh vabbè va la tua sorella ma che guarda che casino autoscontro si si tolgi mi fa pure il dito medio che bastardo no che poi il riferente al massimo ma 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 è una pallina eh va bene scusate ma è bloccato guardalo 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 come corre mi ha fatto stare 30 secondi è bloccato prima ragazzi guardate col figlio di buona madre come corre eh che c'era che storia è fermi a salutarvi beh l'ho capito beh l'hai fatto prima col dito medio cornuto per poco non ci beccavamo per favore tiratevi un calcio nel sedere a quello la dovete smontarlo buongiorno si buongiorno auguri ai figli maschi guardalo come corre vieni qua che ti do un bacetto no va da retro no che botta che eh no vabbè così mi blocco dai Roma su eh mi blocco tutto no 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 ho capito la porca per poco non l'ho beccato figlio di buona madre che disgraziato sembra un confetto sentilo come ride a momenti va in crisi ma vuoi piantare di ridere in quel modo adesso metto un bel video mentre tu ridi immaginabile perché magari ce lo metto senti lo senti lo senti sembra una macchina ingoffata quando l'accenti fa facci tu a casa tua laura i mi 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 Grazie a tutti